C'era una motivazione che è più importante di qualsiasi partita di pallacanestro? Ah sì, sicuramente, ho parlato prima della partita con il papà di Rebecca e ho detto anche a lui che mi è venuta la pelle d'oca perché mi ha raccontato la storia nel dettaglio e quindi a maggior ragione eravamo contenti di essere qua per ricordare una bimba che è un esempio per tutti, per come bisogna affrontare le vere problematiche della vita. Un commento alla partita? No, la partita, intanto faccio i complimenti all'Alan Giole Tauro, a Peppe Polimani, il coach e agli altri allenatori perché sicuramente Giole Tauro ha un buon atteggiamento, corrono, si impegnano tanto, sono ragazzi di cuore e si vede. Poi Giole Tauro è uno dei settori giovanili con più numeri, credo, in Calabria, adesso non sono sicuro, però c'è da fare i complimenti sicuramente a lui. Salutiamo Aldo. E i fratelli tra via. Ciao Aldo. Poi devo dire che noi siamo un gruppo che ha due ragazzi da Campo Calabria che si sono aggregati oggi, ci stiamo allenando quando possibile e ci stiamo divertendo. Sicuramente c'è questo gruppo nostro, l'anello di congiunzione fra il settore giovanile, il mini basket e la Serie C. Abbiamo tantissimo da fare, ma è sicuramente un buon punto di partenza. Spero che alla Mezzia ci diano la possibilità di entrare nei palazzetti, non solo il Palace Party che è l'unico aperto in questo momento, ci diano questa opportunità per poter allenare più possibile i nostri ragazzi. Grazie a tutti.